Fratelli e sorelle bianconeri salve a tutti e allora è scandalo, scandalo che travolge la Juventus e i suoi dirigenti in primis paradici. La procura di Perugia ha reso noti i dettagli dell'indagine su Suarez, sul caso Suarez, sull'esame di Suarez e sono coinvolti i nostri dirigenti per bocca della procura, ovviamente si parla di Paradici che ha concordato con il rettore dell'università e con i professori, il voto di Suarez, le domande dell'esame, infatti è stato un esame brevissimo, tutto questo è accaduto ai primi di settembre ed è una vergogna sinceramente ci butta fango per colpa del signor Paradici, tanto fango addosso alla Juve per una sua non curanza e ragazzi tutti i mali però non tutti i mali vengono per nuocere attenzione, forse è la volta buona che ci liberiamo di questo dirigente inutile e incapace lui le dimissioni non le darà mai anche se sarebbe il caso di farlo, però qua sta Agnelli se Agnelli è un pagliaccio Paradici continuerà a fare il suo lavoro alla Juve, se Agnelli ha un minimo di testicoli, di attributi e allora deve assolutamente cacciare quella persona inadeguata per il ruolo che svolge, perché ricordiamoci a parte questo pastrocchio, a parte questa truffa concordata con i membri dell'università, ricordiamoci che tutto è stato fatto per nulla, perché poi è venuto fuori che ci volevano 7, 8, 9 mesi per avere la cittadinanza, perciò hanno combinato questa truffa, questo tentativo di truffa, prima ancora di informarsi su quanto tempo ci volesse per avere questo passaporto, cioè allucinante, dilettanti allo sbaraglio, almeno falla bene una truffa se la devi fare, volevano far prendere questo passaporto con questo esame a Suarez senza prima informarsi dei tempi, dei tempi che poi sono venuti fuori, infatti due giorni prima dell'esame si sono premuniti di fare le dichiarazioni, noi rinunciamo a Suarez in modo tale da lavarsi la faccia, ma già il danno era stato fatto, l'operazione era stata avviata, un giocatore i cui tempi tecnici per avere questo passaporto erano 8, 9, 10 mesi nel milione dei casi e loro non si sono informati, i paratici non si è informato e ha fatto questo teatrino allucinante, peraltro nel mercato improvvisato perché si sa hanno provato prima con Suarez, poi di nuovo con Suarez, erano alle firme con Suarez, prima ancora si è provato con l'esame di Suarez, poi addirittura con Suarez quasi alle firme, lo aspettava in sede e poi è arrivato Morata, fortuna nostra per l'amor di Dio, ma perché non si è pensato subito a Morata? Se come diceva Radici Morata era la prima opzione, il piano A della Juve, perché non l'hanno fatto subito invece di questa farsa Suarez che ci butta tanto fango, tanto fango anche a livello internazionale, infangati per questa persona schifosa, incapace, inetto e tu Agneli lo devi buttare fuori, un inetto, un inetto, un inetto, maledetto, incapace, un dilettante, un dilettante, ma che cosa gli sembrava di andare al mercatino del sabato, al mercatino del sabato, al mercatino delle pulci? Vi rendete conto l'inadeguatezza di questo personaggio e noi ancora abbiamo Paratici, Paratici? Che possibilità questa squadra di crescere con Paratici? Voi aspettate, io aspetto, voi aspettate il centrocampista di Grido, ma che cosa volete che vi porti questo signore? Questo essere schifoso, Agnelli dimostra le palle, buttalo fuori anche per lavare la nostra faccia di fronte al mondo, dimostra che la Juve butta fuori un incapace che ha combinato tutto questo pastrocchio, dimostra che noi siamo più forti di questo. Poi per l'amor di io rassicuro tutti, la Juve non rischia niente perché non ha alterato nessuna partita, non è stato fatto, sì, si rischiano mute, si rischiano squalifiche di dirigenti, si rischia inibizioni, non dico a vita, ma almeno uno o due anni sicuramente per il tentativo di alterazione, però non è stato alterato niente perché Paratici non era neanche, scusate, Suarez, Suarez non era neanche tesserato per la Juve, perciò non è stato alterato niente, però c'è un tentativo di truffa, ci sarà inibizione sicuramente una squalifica e forse ci toglieremo Paratici dai coglioni perché Agnelli non ha il coraggio di farlo, ne sono sicuro, fino alla fine.